No, la signora o no? No, il signor? Allora, signor? Vorrei ringraziare l'amica che ci ha portato a questa festa, buongiosa, siamo molto contenti. La letizia ci vado. Per molestarla, che stiamo qui vicino a Piavento. Ah, bene, noi ci vediamo anche la prossima settimana, magari, se potete. Senza, grazie. Grazie, vi piace lo spettacolo, ecco, con tanti amici. Grazie. Allora, signora, le piace questa serata? No, non volete dire... Volete dire qualcosa? Volete salutare? Ecco, solo tu dovevi fare queste cose meravigliose. Allora, ci vediamo nel prossimo appunto, a fine settimana, sempre, ecco, con altre belle canzoni da cantare qui. La dolce vita, tanti vuoi. Facciamo noi il lancio, facciamo la replica della dolce vita. Va bene? E non cresce più. Volevo passare anche ad altri amici. Ecco, sono qui con voi. Ragazzi, se volete venire, un attimino. Allora, Rosana, io volevo congratularvi per queste splendide voci. Veramente belle, belle, belle. Grazie, poi ascolteremo anche la voce. Un applauso a tutti. Gianni, veramente. Un applauso a tutti. Sono queste, le grandi voci, sono quelle sconosciute, ma le vogliamo far conoscere, le canzoni, quelle conosciute, che alle volte sono quelle che... Andiamo avanti. Voglio sentire anche la voce dei signori qui. Ecco qui. Se l'abbiamo qui da una parte, però sono tutti con noi. Arriva, arriva, arriva. Eccolo qui. Che io l'ho comprato l'acqua. Grazie. La sera è stata ottima. Mangiare con me. Questa ci fa piacere. Facciamo un saluto al nostro... Al cuoco. Al cuoco, sì. Il proprietario dell'antica Roma. Siamo curiosi di vedere il tuo segno. Benissimo, ti ringrazio. Allora, si chiama Angelo. Angelo. A parte tutti i complimenti che hanno fatto la distinzione e sono d'accordo. C'è una cosa che viene ribadita in questa trasmissione. Che cosa? Che le canzoni belle sono quelle di una volta. Bravissimo. Bravo, bravo Angelo. Gli evergreeni, sempre verbi. Allora, bellissima. Bellissima. Carissima. Io credo che questa serata la dobbiamo tutta quanta lei. C'è una donna splendida e di grande carisma. Grazie. Grazie. Grazie a questa serata. Grazie. 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 Un saluto a mio marito, Gianni Conte. E me la salutiamo. A lui è il saluto. Un bacio al mio marito. Più tardi. Più bravo. Grazie, tesoro. Grazie. Più tardi. Mi ha detto. Allora, qui abbiamo un attore che poi ascolteremo. Vuoi salutare anche? Io mi vergogno. No, volevamo farti i complimenti della bellissima serata. Grazie. E ancora non è finito. Questo è all'inizio. Faremo molto tardi. Grazie. Allora, io direi di andare avanti. Ah, vieni. Punto e virgola. Vuoi dire qualcosa? Intanto poi vi faremo ascoltare la tua performance. Abbiamo anche una grande soprano che poi ascolteremo. è stata molto interessante, simpatica. E' stato di conoscere tantissima gente nuova. E questo è il mio compito. Io sono Natale Schiave. E' fondamentale. Ti ho fatto molto e ti ho svolto molto bene con il compito. Grazie, grazie. Ma anche per la vostra cortese collaborazione. Perché se non ci fosse quella, ecco. Io faccio un applauso a tutti quanti. Beh, e noi lo facciamo insieme. A parte. La nostra grande soprano, che poi ascolterebbe la sua splendida voce. Buonasera a tutti. Dopo canterò una canzone napoletana dal titolo Torna sul Viento. Quindi ascoltatemi. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie a Rossana.